Più monitor, più mouse, più tasto e più cuffie. È ovvio. Video di polibri, ma ne stanno uscendo di continuo. Qual è il problema? Non ho capito. Capito? Se tu prendi tutto quello che c'è dentro a un fisso e lo metti a paragone con un portatile, il fisso vince a mani basse. Sì, mora, boss. Certo. Però poi anche lì non sarebbe giusto dire ok, fisso da 1000€ contro portatile a 1000€ e vince il fisso. Sì, ok, però a questo punto proviamo a valutare. Ok, ma il portatile c'è già lo schermo per il fisso di comprarlo. Sembra che mi sto ingroppando Lucian, così. Per il portatile la tastiera già ce l'ha il fisso invece di comprarla. Il mouse, vabbè, lì devi comprarlo perché se giochi col touchpad sei uno stronzo. Però a parte quello, in linea generale, l'audio già c'è, mentre invece col... Vabbè, lì vuoi prendere una televisione anziché un monitor, ok. Però insomma, il concetto è... Il concetto è, ragazzi, non è neanche giusto mettere a paragone quello che c'è dentro al case e valutarlo come PC fisso senza valutare periferiche. Ovviamente, perché il portatile già le ha. Però, esatto, il fisso lo puoi per gridare. Gli upgrade del portatile sono fattibili. Diciamo che... Ecco. Addio. Sì, ti aiutiamo subito, tranquillo. Diciamo che... In linea generale, sono migliorie che sono... Vabbè, tipo... Per quanto riguarda lo storage, vai subito. Però c'è le RAM saldate, il processore... Come fai? Cioè, abito in D... È scomodo. Il tuning del portatile è meglio lasciarlo stare. Può essere divertente, anche io mi sono divertito a smontare il mio portatile a tre file hard disk, così, giusto per... È stato divertente, però... Non c'è personalizzazione, dai subito. Se andrà sotto... Sì, dai. La kill che l'ha presa, via. Ecco. Sì, sì, ah, sono qui ad aspettarmi, tranquillo. Eccomi qua. Ah, tata! Eh! Olè! Oh, no, no. Prossima volta. Mettiamo il mana flow. Oppala! Guarda lì. Che bella schiccherona abbiamo tirato in testa, quello lì. Sì. Oh, no, le pizze li abbiamo tirati a questi. Eh, come se li abbiamo tirati? Tuck. Guacqua, che roba c'è! Una bella guarda qua, e via. Sissio Gamer, donate in euro 2.69. Con questi comprati, la tastiera... Ecco qua! E piatte su te du pizze. Grazie, Sissio! Lo farò sicuramente. Grazie mille della donation, caro. BOOM! Ok. Oh! Con quanti HP è rimasto Con quanti Mannaggia Nooo Sono un babbuino l'ho missato No ragazzi Ho proprio una scimmia Eh non c'ho manco il mana adesso Pirai Mamma mia che tensione Guarda qua tutti senza HP Senza mani Andrei back onestamente Uh Sarei rimasto ma Affanculo Meglio se andiamo back qua Più che altro non ho mana Non ho mana regen Quello è il problema Altrimenti ci sarei anche rimasto Comunque veramente è rimasto Con un cazzo di HP Andrea Fasano Grazie del Prime E benvenuto nella Felix Army Carissimo Lei è veramente Molto gentile Abbiamo anche la Wall Che push a favore Buono buono Tipo in mid Dopo la seconda morph E via Ho avuto una moto Sì Avevo una Yamaha XT 125 Quando avevo 16 anni Ecco qua Siamo presi già un po' di pizze 1150 costa sto cosa E purtroppo Victor che non farma Oh a casa A casa Oh Bobby ma che cazzo vuoi Eh Vieni Vieni a dirmelo Vieni pure a dirlo allo zio Victor Sentiamo Allora Oh ma non muore Ma che è Non faccio danno qua Sì sì Poi da questo L'abbiamo Ingabbiato Con l'Aime Resiste Di nuovo È sopravvissuto Per l'ennesima volta Ma qua ragazzi Mancano un po' di soldi Non riesco mai a farmi Sto cazzo d'oggetto Potrei vendere queste Farmele È troppo importante Questo item qua Ok Vai vai Ci sta Allora la Q Tira Sta Sta scheggia qua A forma di shuriken Fa un po' di danno Mi ritorna Mi dà un po' di scudo E il prossimo attacco Fa dei danni potenziati L'W Piazza sto cerchio per terra Che lupo un po' Blocchi ai nemici Come avete visto con V L'A invece spara Sta laserata Mentre la ult Prima di mente È È la nuvola di fantozzi Che però ti spara i fulmini Ogni secondo Adesso vedrete Ecco qua Che laserata Io ho tirato a questo Ma Vabbè Victor mi ha sempre fatto Unire il cazzo duro Comunque Non ho mai saputo usarlo Non ci ho mai neanche provato In realtà Però Mi ha sempre fatto Unire il cazzo duro Victor Questo bastone qua Guardate che fierezza Bravo codice Fagli vedere Minchia però Quella pozione Non è stato al massimo Venderla Lo ammetto La mancanza di sustain Si fa sentire Vabbè Per i danni che faccio La sentireanno Molto più loro La mancanza di sustain Wewe Ah Bzz 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 Fate qua La nuvola di fantota La prossima volta Fammi vincere Due punti aperta Parente seconda Nooo E' lo slowato Ma quanto due Lo slow del red buff Madonna Tre minuti Gesù Cristo Quanto è durato Lo slow Vabbè Momentac place Grazie mille Dei cheers La prossima volta Fammi vincere Non ho capito Perché sei contro di me Vabbè Grazie comunque Mi dispiace Bro Mi dispiace Alle bridi Grazie del prime E benvenuto Benvenuto Nella Felix Sarncar Grazie tesoro L'oggetto di Victor Come funziona? Niente Ti dà AP e mana Scalando quei livelli Tutte volte Che rompi un potenziamento Ti potenzia una spell Un po' la Kha'Zix Diciamo Per semplificare No Occhio che scoppia No Faccio scoppia io a questo Ah si? Rompi il cazzo Rompi il cazzo Eh quel flash Era un po' overkill Mi è sembrato un po' esagerato Quel flash L'avevamo preso e come Vabbè dai È ok Oh 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 Ah lì che pizzo che ti tiro a questo Ah mi servono dei gold Voglio arrivare a mille gold Così mi potenzi Nuovo l'oggetto Mi prendo Potenziamento per la Q Bravo E' una W di Di Swain Così per sport Vai Eh no Bobby Ok Andiamo back che è meglio Ah Mitch Grazie il Prime Mitch è benvenuto Nella Felix Army Dio Cristo Porca troia Via Sorksand Grazie di tre mesi Bentornato Bentornato a Felix Army Amma mia ragazzi Che pelo Che pelo e contro pelo Aveva fatto queste Però devo dire Che ho doggiato con stile Tanto tanto stile Tu 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 Aaaaa Ma quello è cheating Quello è il flash Non va bene Sembra un po' una tragedia Nelle altre lane Beh oddio dai Eh Insomma Lo domine In realtà Non penso che cambi più di tanto Ma Se vuoi fallo Cioè nel senso Anche semplicemente per Anche semplicemente È una cosa psicologica È il tipo Vabbè ok Non è il mio account principale Quindi gioco più tranquillamente Alla fine Anche a quello Sarebbe lo smarf Non è semplicemente Faccio lo smarf Perché Spito Puoi vederla anche così Ok Meglio che niente dai Eh no Lucian Te prende Te prende Eccolo lì Adios Vai Vai Mastery Right click A Mastery Come solo tu sai fare Mamma che right click Signori Bravissimo Bravissimo Consuma sto mouse Come non ci fossero domani Mi piacerebbe andare a rubare un po' Di farmi in mid lane Cioè guarda lì quanta roba c'è Mi dispiace E sprecarlo Onestamente Ecco qua Vedete Il farm non si spreca È un po' come il cibo Easy Si ha anche premuto Q Mastery è vero Scusate Non era soltanto right click Ho visto Ho visto Confermo Ha anche premuto la Q Vedete io mi rubo la mid Lucian si ruba i pappagalli Così Il red buff si sentiva troppo in colpa Ha detto vabbè dai mi rubo i pappagalli Prevendo Tutta la vita Salve caro Salve caro Siamo a 5 fieri mesi Sei stato una compagnia Tanto nel lockdown Quanto lo sei ora Nello studio Ti spurgo Il tuo è un intrattenimento Davvero godibile Continua così Grazie mille spurgo Grazie il bel messaggio Dei 5 mesi E anche Caffa signori Ma che ca... Ma il mio ADC dove cazzo è andato Ma perché è andato top a morire Qualcuno me lo può spiegare Vabbè Grazie caffa Bentornato anche te caro Che schifo i poveri Ma che botte si è preso Un 1v1 lo massacravo quello Grazie lularo 2 euro Grazie a donation carissimo No fa... Oh ma l'accudio Cristo È un parfe Abbiamo flashato addosso questo Se no mi salvavo Grazie lularo Anche Red Hood in the wood 8 mesi Bentornato nella Felixheimer Dude Bentornato Eh no però Dai almeno so Ma stai sotto Esci Io Io Merita di morire Oh Merita di morire Sto Lucian Non merita di rimanere vivo Fa troppo schifo Per rimanere vivo Sto Lucian qua Fa veramente schifo Per rimanere vivo Meglio se muore Caffa 500 bit Gentilissimo caffa Grazie tante Stasera ragazzi Tanto supporto Vi ringrazio Nel gioco Vabbè certo Dove se no Cioè veramente Allora Poteva salvarsi Poteva evitare di Far spendere a qualsiasi cosa Poteva uscire Hold the line Lovis and always on time Fatto Va bene così Sì Direi che va bene così Vabbè comunque Ok Ti è piaciuto Jin Ecco qua Spero tu ti sia divertito Guarda qua Eh Eh Bobby Ah si Ma Sta zitto Bec Che kill violenta Avete visto Che È violentissimo Victor È violentissimo Fa proprio cacare Questo Lucia Comunque Lucia si sta triggerando Cazzo Almeno io Faccio qualcosa Eh qua Caro Aziz La vedo alquanto D'uva Oh le Ah Non guadagno più Una lira Peccato Boh Sti cazzo Anche se non guadagno Push Tanto Sti soldi Chi le prende Sono tutti morti I miei alleati Qua Mi sa che Torna L'asrione A carriere tutti Non vedo Altra spiegazione Qua Non vedo Altra soluzione Con Lucia Che ruba La giungla Il nostro jungler Che tanto Boh Sa che sta a fa' Quello Chiocciola Dedicami Una kill Chiocciola Chiocciola Yuzaki Grazie mille Sto arrivando Sto arrivando Eccomi Si Oh Sta fermo Vabbè ragazzi Fa proprio cacare Sto tizio Fa veramente Vomitare Cioè dai Poteva semplicemente Stare fermo Non doveva muoversi Faccio Faccio All the line Di nuovo Lucian Che dice Posso farmare Tanto tu Non penso Prenderai quel farm Grazie Stai ancora Yuzaki Ti ridico Questa kill Allora Quella solution Si E' tra 30 secondi Che palle Mi piaceva prima Quando Li portava tutti Al centro Non so perché Abbiamo tolto Sta feature Bu Vai vai Rubbo Grazie dell'exp Si si Ci sto Ci sto Ragazzi Calma Ecco qua Uè Bobby Che se dice Bobby Tuck Madonna Ragazzi Tutto Hanno usato Questi Tutto Qualsiasi Cosa Adesso Abbiamo una Bella Srata E via A Strunz Vience Strunz Vience C'è un po' Di soldi Dove Andare Beh Ecco qua Io andrei back Ragazzi Non so voi Ci andrei volentieri Arriva qualcuno No C'è una troppa paura Sti ragazzi Troppa paura Del laserone Una delle prime volte così Victor Prima l'ho usato C'è Tempo fa L'anno scorso L'ho giocato Qualche volta Sappor Però si Non è che Non sono molto Ferrato Diciamo così Però Diciamo che Se avete Amazon Prime Potete ferarvi A questo canale Abbonandovi gratis Senza spendere Un centesimo Ecco qua E tanti saluti Sì Bobby Sì 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 La Q Non è tornata indietro Abbastanza velocemente Mi sarei preso lo scudo Peccato Poi c'è la maschina Forse morivo uguale Con lo scudo Della Q Forse mi salvavo Un botto di mana Vabbè Non scala più Col mana Un pezzo Alla A Bravi Lil Ezreal Grande Gioele Un applauso Zafron Space Grazie dei sette mesi Bentornato Nella Felix Army Bentornato Cosa fa la Q? La Q ragazzi Tira Tira questa sorta di shuriken Che fa danno E rimbalza Ti torna indietro Ti dà lo scudo E poi il prossimo Attacco base Fa dei danni aggiuntivi Sempre preferito E Singed Ragazzi Il buon Mauri Ci ha confermato Domani pomeriggio 15.30 Reaction L'ho detto L'ho detto Completare il primo oggetto È già completo È già bello Che completo È la prima cosa Che ho completato Oppala È un terzo di vita Saluta Poi ti dà anche Quella Muin Speed Che è veramente good Quando lo potenzia La Q Via Ma che cazzo Ma che sono Sti danni What the fuck Oh Full tank Vabbè One shottato Va bene Tocca farci una zona Mi sa qua Oddio Ho anche la Leech Bain Però dai La Leech Bain Fa più danno Facciamoci quella Lo farei Minecraft Tra due anni Quando esce la 1 Punto 19 Va bene Ragazzi Il light click È partito Io avrei fatto Prima Quell'altro Ma va bene Così L'ultimo cosa fa La nuvola di Fantozze Mi pareva Alquanto chiaro La funzionalità Della nuvola Di Fantozze Real Perché vanno utilizzate In due momenti Diversi Ottimo TP Pensavo Non ci sarebbe arrivato È già qualcosa Almeno è sprecato Il 99% E non è al 100% Ok No Al 100% Mamma mia Ragazzi Che ballerino Sto Victor Zitto Ottimo Abbiamo ripreso 8 belle stack Di me già Adesso ci refulliamo Anche Eh no eh Eh madonna Sto attento Che No no Stai pure lì Oddio È partito Bella assist Mastery Mi assista Mastery Oh sì Ragazzi Oh sì 12 stack Di me già Let's go Baby Allora Come salgono Olè È a casa Il laserone Cazzo Quanto mi divertivo Con sto campione Qua Forca trecchie Laserate Che ottima Guardate qua Lungo quanto Il bastone Di Victor Brava Allora Sentite sto bel sonno Della ruspa Questo è il sonno Ragazzi Della ruspa Mentre passava sopra Il campo nemico Proprio sopra i nemici Passava quello Della ruspa Lungo Della ruspa